Musica Buongiorno e bentornati a Medicina 33. Il diabete, lo sappiamo, porta con sé molti problemi. Uno fra questi è la retinopatia legata appunto al diabete, vedremo. E poi spesso abbiamo parlato di problemi urologici legati agli uomini, ma in realtà anche le donne possono avere problemi di tipo urologico. Ad esempio la necessità di urinare spesso può nascondere una condizione che si chiama caruncola uretrale. Di questo parliamo con il nostro ospite in studio di oggi, il professor Gabriele Antonini. Buongiorno. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Professore, Università La Sapienza di Roma e Policlinico, Umberto. Professore, la prima cosa che le chiedo, ma è vero che la parte urologica nelle donne è un po' trascurata? Diciamo che non è trascurata, ma fondamentalmente avendo la donna le stesse condizioni patologiche che ha l'uomo, quindi problemi di calcolosi renale, problemi di infiammazione della vescica, quindi di cistiti, problemi di incontinenza, la donna soprattutto si rivolge al ginecologo. Arriva all'attenzione dell'urologo sempre in seconda battuta, soprattutto quando ha un problema che non è stato diagnosticato dal ginecologo, oppure ha un problema di calcolosi aireni. Allora, lei ha parlato di cistite, effettivamente è una delle cose più comuni nelle donne, invece però, la necessità di andare spesso in bagno può nascondere qualcos'altro? Cosa? In prima battuta, la necessità di andare spesso ad urinare potrebbe essere correlata, soprattutto andando avanti con l'età nella donna, una iperattività della vescica, quindi un problema di tipo neurologico, ma c'è una condizione di ostruzione a livello uretrale, l'uretra è il canale che porta fuori la pipì, che potrebbe determinare una frequenza importante e alterare in modo sensibile la qualità di vita sociale della donna. Ecco, e qual è questa condizione? La condizione si chiama caruncola uretrale, è una condizione non patologica, è un'infiammazione della mucosa uretrale che praticamente diventa eritematosa, fuoriesce un pochino e va ad ostruire il meato uretrale. Il meato uretrale che normalmente misura un paio di centimetri, quindi crea un'ostruzione meccanica. La donna non riesce più a urinare bene, il getto è un getto debole e aumenta la frequenza. Ma è molto diffusa questa condizione? È molto diffusa, tante donne non sanno di avere questa condizione di ostruzione, di solito è correlata all'età e alla menopausa, perché il calo degli estrogeni determina queste infiammazioni uretrali che possono provocare appunto questa ostruzione. Ma può degenerare? Assolutamente no, non è una patologia maligna, qualche volta può sanguinare, il problema è un problema di ostruzione, quindi c'è un'alterazione importante della qualità di vita menzionale della donna. Lei ha parlato di infiammazione, ma quindi è una cosa che si può curare con gli antinfiammatori? Diciamo che non si cura con gli antinfiammatori, si decorre asintomatica finché non ostruisce completamente il canale urinario e si può risolvere soltanto chirurgicamente. È un intervento molto impegnativo questo chirurgico? È un intervento molto banale, molto semplice, l'importante è fare la diagnosi, si effettua il regime semiambulatoriale, si fa una piccola escissione di questa mucosa eritematosa in eccesso e si libera il canale. Ma e come si fa a diagnosticare però questa condizione? Basta una semplice visita, un esame obiettivo, basta controllare il meato uretrale, ovviamente se la paziente riferisce questi sintomi di ostruzione e di aumento di frequenza menzionale. Una volta fatto questo intervento chirurgico, poi è definitiva la soluzione? Assolutamente, si pone un catetere vescicale per un paio di giorni per aiutare la zona a guarire dalla procedura chirurgica e non ritorna assolutamente. Tempi di convalescenza? Ma in una settimana si guarisce. Benissimo, grazie. Grazie a voi. Grazie professore. A questo punto è il nostro secondo servizio di oggi, vi ricordo però sempre la nostra email sentimedicina33.it, ci potete scrivere ogni venerdì dalla pagina Facebook del Tg2, un esperto risponderà ad alcune delle vostre domande. Vi saluto e vi do appuntamento come al solito con Medicina 33. Arrivederci. Grazie a tutti.